stroncati dalle droghe il silenzio delle stelle attraverso maria teresa g a cura di vb entità tommaso vi sono anche tanti figli dolenti sono giunti qui stroncati dalle droghe un certo ricky un certo pierluigi un certo fabio e philip paul host elena matilde gianna alexandra juliette una folla una processione interminabile che agli inizi urlava e imprecava cercando ancora la cartina di roba in seguito presa consapevolezza del loro nuovo stato rimpiangono rabbiosamente la vita che hanno rigettato una vita che loro ritengono sprecata un'esperienza finita sul nascere ahimè che hanno rifiutato riproseguire e della quale pagheranno il fio e ancora in seguito incominceranno ad avvertire i rimorsi verso tutti coloro ai quali hanno inflitto dolore e gravi danni proprio philip o soccorso per primo era londinese figlio di operai con altri tre figli a carico una volta fino ai 14 o 15 anni era un ragazzo tranquillo studiava regolarmente ed aspirava a lavorare nella stessa azienda di suo padre ma con un ruolo di maggiore responsabilità e prestigio invece una sera ad una festicciola fra compagni di scuola erano passati dal pub ad una zona periferica poco illuminata e poco battuta dagli agenti di sorveglianza ed era stato là proprio quella maledetta sera che aveva conosciuto la droga per la prima volta piangeva nel confessarlo